Dopo l'episodio di mercoledì sera, quando un gruppo di 13 scandinavi è stato vittima di un'aggressione con un bilancio di tre feriti, ieri sera, dopo il match di Europa League del Napoli, altri tre tifosi sono stati vittime di violenza. Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ma innanzitutto non chiamiamoli tifosi, perché questi sono criminali. Anzi faccio l'appello ai tifosi, siccome vedo un grande Napoli, oltre a una grande città di Napoli, vedo un grande Napoli, lo sto vedendo in campionato, l'ho visto ieri, può andare molto molto lontano. Noi dobbiamo arrivare lontanissimo anche però nella sportività e nell'essere una capitale del mondo. Quindi l'appello mio non è solo alle forze dell'ordine di individuare come sono certo per l'ottimo lavoro che stanno facendo, presto e bene i responsabili, ma tutti i tifosi, organizzati e non organizzati, a isolare questi criminali che probabilmente essendo stati già isolati pensano in questo modo, in qualche modo, di tornare alla ribalta. Sono criminali e basta che non avranno nessun tipo di mano tesa né da parte della città, io sono convinto che li isolerà né da parte della società Calcio Napoli.